Il Comune non fa la propria parte e si è costretti ad agire privatamente. A Salerno continua a tenere banco la questione inquinamento nell'area di Santa Teresa, una battaglia condotta da anni, ad esempio, dai figli delle Chiancarelle che lamentano l'insalubrità degli scarichi a mare. Oggi il consigliere di opposizione Gianpaolo Lambiase ha finanziato un prelievo indipendente presso laboratorio accreditato per capire se ci siano o meno pericoli per la salute dei bagnanti nella spiaggia simbolo di Salerno. Abbiamo sentito il dovere di attivarci privatamente, tra virgolette, con un laboratorio certificato. Lo devo fare io, il consigliere di opposizione non lo fa l'amministrazione comunale. Credo che sia dovere dell'amministrazione comunale preoccuparsi di queste cose. Avremo i risultati senza allarme per la popolazione perché vogliamo semplicemente capire che cosa succede ogni mese. Ogni mese questo canale, il cosiddetto chiavicone, caccia acqua rossa o acqua bianca a mare può essere un problema per chi utilizza la spiaggia e soprattutto per i bambini che ho visto in varie occasioni i bambini del centro storico e giocano con i piedi in quest'acqua sporca. Andiamo a fare una valutazione chimico-fisica, organolettica, per vedere effettivamente quello che viene quasi non tenuto in considerazione ma è l'aspetto anche maleodorante che potrebbe impattare oltre che il consentito. E quindi andremo a valutare anche la quantità di escherichia coli ma vedremo anche di verificare questa mucillaggine che ha questa colorazione intensa.